Geopolitica inizia oggi il meeting con Calogero Mannino, Sicilia, Mediterraneo e Europa. Sicilia, Mediterraneo e Europa inizia oggi a Siracusa il meeting organizzato dall'Associazione Incontri a Siracusa che si terrà fino al 29 ottobre nella sede del Siracusa International Institute in via Locoteta. Alle 17 interverrà l'ex ministro Calogero Mannino, esperto di geopolitica, intervistato dall'inviato del Corriere della Sera Paolo Valentino per parlare del ruolo della Sicilia nel Mediterraneo. A seguire, sempre nella giornata di oggi, Leonardo Bellodi, docente della LUIS, dialogherà con Mario Barresi, inviato della Sicilia sul potere del gas e la geopolitica dell'energia. Domani alle 17 sul tema quale difesa per l'Europa interverrà il ministro della difesa Guido Crosetto.